Buon pomeriggio a tutti voi presenti alla nostra settimana Horizon Europe. Oggi pomeriggio tratteremo i partenariati europei, le missioni, l'approccio open science e gli aspetti etici di sicurezza. Inizierà oggi questa sessione pomeridiana parlandovi di quelli che sono i partenariati europei, che sono considerati insieme alle missioni uno degli elementi di novità della programmazione 2021-2027 del programma Horizon Europe. Vi racconterò e cercherò di raccontarvi i partenariati in queste orette insieme, dedicando una quarantina di minuti da parte mia un'illustrazione di quelli che sono gli elementi chiave delle partnership e poi dando a voi la parola sempre con il nostro slide o con il codice HEWIC per aprire spazio al dibattito e acchiarire alcuni degli aspetti chiave dei partenariati. Voglio iniziare questa presentazione con una frase della nostra commissaria Maria Gabriel, commissaria della ricerca e dell'innovazione, dove nel considerare alcuni degli elementi chiave di Horizon Europe riporta i partenariati come una delle opportunità più importanti dell'Unione per cooperare nel rispondere alle più profonde trasformazioni economiche e sociali e plasmarle a vantaggio di tutti i cittadini dell'Unione Europea. Ma perché i partenariati sono così importanti all'interno di Horizon Europe? Perché sono delle iniziative dove l'Unione Europea, le autorità nazionali e il settore privato si impegnano congiuntamente a sostenere che cosa? Lo sviluppo e l'attuazione di programmi di attività di ricerca e di innovazione. Nei partenariati possono partecipare insieme alla Commissione le industrie, le università, le organizzazioni di ricerca, le quali collaborano con la Commissione in una sorta di programma nel programma. Quindi i partenariati europei, nelle declinazioni che poi andremo ad analizzare fra poco, diventano una sorta di ulteriore opportunità di finanziamento, oltre a quelle offerte nei paesi di lavoro che abbiamo analizzato e che stiamo analizzando in queste giornate di lancio dei temi e dei cluster di Horizon Europe. Una volta che avrete a disposizione queste slide, che come ormai sapete se sarei collegati con noi nell'ultima settimana sono a disposizione nel nostro sito www.apre.it nella pagina dedicata alla settimana Horizon Europe, troverete anche in queste slide alcuni riferimenti utili e del materiale che può aiutarvi a comprendere nella miglior modalità possibile quello che è il concetto anche di un European Partnership. Ma entriamo meglio nel merito. Sono una novità i partenariati europei? In realtà no, non sono una novità di Horizon Europe, poiché il concetto di partnership è stato introdotto già nel lontano 2002 con l'inserimento di quelli che sono state le piattaforme tecnologiche europee e tutte le varie declinazioni ed evoluzioni delle piattaforme stesse. Stiamo parlando che già nel settimo programma quadro, ampliato maggiormente poi il concetto di partnership in Horizon 2020, esistevano quindi queste iniziative di lungo periodo dedicate ad evitare la frammentazione di quello che è il panorama di ricerca e innovazione europeo e migliorare quella che è la coerenza tra i programmi di ricerca tra diversi Stati membri e diversi enti presenti nel panorama europeo. La novità che viene rappresentata in Horizon Europe è il concetto di razionalizzazione. Che cosa si intende? Si intende la diminuzione in qualche modo, razionalizzare il numero dei partenariati e rendere maggiormente coerenti a quelle che sono le politiche dell'Unione Europea, rendere maggiormente coerente l'impatto che avranno gli stessi partenariati nel coinvolgere anche le diverse parti interessate. Questo porta Horizon Europe a definire in maniera molto più puntuale e coerente quelli che sono i vari criteri di accesso e di definizione dei partenariati europei, aperti e trasparenti e collegati e sinergici a quelli che sono non solo le opportunità di Horizon Europe, ma le sinergie anche con altri programmi presenti all'interno del panorama dell'Unione Europea. Ma da dove siamo partiti? Sicuramente per questa razionalizzazione non è qualcosa che è avvenuto nell'ultimo semestre di preparazione di Horizon Europe. Siamo partiti già nel 2017 con il B-in-term review di quelli che sono i partenariati pubblico-privati, all'epoca chiamati contrattuali, in una declinazione che poi ritroveremo similare nei partenariati coprogrammati in Horizon Europe. Che cosa cominciava già a riportare questo rapporto? Che c'erano delle difficoltà e che dovevano essere riempiegate e favorite delle migliorie nella definizione dei partenariati nei periodi successivi. In particolar modo, riformare il modello di governance, favorire un'armonizzazione di quelli che sono degli indicatori di performance per la valutazione e il monitoraggio dei partenariati stessi. Ma in particolar modo, cercare di rendere i partenariati più correnti e più sinergici con quelli che sono gli altri strumenti e le politiche dell'Unione Europea. Questi tre punti poi ce li siamo ritrovati in maniera ancora più approfondita in altri documenti di studio che hanno portato all'attuale declinazione dei partenariati europei. Sto parlando in particolar modo di quella che è stata l'Interim Evaluation di Horizon Europe, ma anche del famoso rapporto LAMI-Lab-Fab-Up che ha aperto la discussione e la definizione di quella che poi è l'attuale struttura di Horizon Europe. All'interno delle raccomandazioni, delle 11 raccomandazioni di LAMI, troviamo la numero 6 che è proprio dedicata ai partenariati, dove si consiglia di andare a razionalizzare quello che è il panorama dei finanziamenti per raggiungere in maniera più forte le sinergie anche con i fondi strutturali. Da questo punto di vista si consigliava un'azione che portasse a fare che cosa? A, in qualche modo, diminuire quello che erano gli schemi e gli strumenti di finanziamento per rinforzare quelli che venivano scelte e che diventavano prioritari in modo da andare a rafforzare la coerenza, la complementarietà con le altre fonti di finanziamento previste dall'Unione. Nel corso di questi anni ci sono stati altri documenti e altri rapporti che sono diventati interessanti per uno studio più approfondito di quella che è la storia e l'attuale definizione delle partnership. Non vado a declinarli ora, ma ve li lascio in slide in modo che se qualcuno di voi è curioso e ha interesse nell'approfondire maggiormente, anche da un punto di vista più politico e più anche, diciamo così, di da scalico, i concetti di partenariati, può andare a visionare il materiale che è messo a disposizione. Vediamo però quelli che sono, in questo momento, degli elementi chiave dei partenariati in Horizon Europe e poi andiamo a definirli in maniera più puntuale. Innanzitutto, guardando questi tre elementi chiave che vengono qui definiti, il processo, la coerenza e il commitment e l'impegno, vediamo subito come la Commissione ha messo in chiaro che i partenariati di domani, ovvero quelli che attualmente troviamo e che sono inviati di implementazione all'interno di Horizon Europe, devono avere come condizione per il proprio lancio quello che è un'agenda strategica di ricerca e innovazione e una mappatura, una roadmap di quelle che sono le priorità di ricerca. Questo diventa fondamentale per andare a finalizzare in maniera congiunta le priorità di ricerca tra la Commissione Europea e la partnership che la Commissione andrà ad includere all'interno di questa iniziativa congiunta di finanziamento per la ricerca e l'innovazione. A fianco alla questione del processo e a quelli che sono degli elementi di iniziazione del processo dei partenariati, abbiamo un altro elemento chiave che è quello della trasparenza del processo preparatorio e quindi il fatto che tutti i partenariati in tutte le declinazioni che troviamo in Horizon Europe devono nascere da una serie di criteri omogenei e uguali per tutti e tre i partenariati quindi mantenere uno zoccolo duro di quelli che sono dei criteri di preparazione e di definizione dei partenariati che poi diventeranno una base comune che andremo a breve ad analizzare e che caratterizzeranno tutti e tre i tipi di partenariati presenti nel programma Horizon Europe. L'ultimo punto quello sicuramente più interessante e quello che ha creato poi in realtà un reale anche cambiamento rispetto al concetto di partenariati che in alcuni punti è ancora poco chiaro è l'elemento del commitment ovvero del fatto che la condizionalità dei partenariati europei è che i partner della commissione in questi partenariati debbano già definire quello che è il loro impegno e risorse e investimenti nella fase preparatoria quindi non a valle del processo durante l'implementazione dei partenariati ma già all'inizio del processo questo per garantire una certa stabilità dei partenariati e un certo investimento che possa durare negli anni prima però di andare ad oggi voglio farvi vedere quella che è l'immagine dei partenariati che avevamo fino al 31 dicembre del 2020 e chiedo alla regia di partire con un breve video presente all'interno che è stato un video ripreso materialmente da noi durante la Industry Days del lontano 2018 dove l'allora commissario della ricerca e dell'innovazione Moedash cominciava a far intendere che il concetto di European Partnership in Horizon Europe sarebbe stato diverso grazie un'innovazione pubblico e privata di partenariati poi applicare come poter sfruttare questi strumenti guardate questa è un'immagine degli oltre 120 partenariati che erano previsti in Horizon 2020 questa è un'immagine di cui ringrazio sia la commissione che Stefano Bisolfi e allora Alternate nella configurazione della seconda sfida sociale perché ci fa vedere proprio la confusione e l'immane presenza di ulteriori strumenti di finanziamento nell'Horizon 2020 che come ripeto non aiutavano assolutamente l'utente e tantomeno forse la commissione a creare poi una reale coerenza dagli strumenti e una reale concordanza nell'evitare sovrapposizione di finanziamenti nell'allora Horizon 2020 andando a fare un calcolo a spanne circa 20 miliardi dei 70 e passa miliardi dedicati ad Horizon 2020 erano in qualche modo impiegati in quelli che erano i diversi tipi di partenariati siano essi pubblici che privati quindi questo vi fa capire anche la grande rilevanza economica che hanno i partenariati non solo in Horizon 2020 ma anche la rilevanza economica che avranno i partenariati stessi in Horizon Europe guardate il portafoglio sempre del vecchio programma e guardate quanto è cresciuta l'importanza dei partenariati anche a livello economico ovvero di budget che viene da quello che è l'ammontare dedicato ai programmi quadro e che è stato riservato a questi strumenti si è andato ad aumentare fortemente negli ultimi anni non solo in quelli che sono i partenariati che prevedevano una pubblicazione una scusate una partecipazione degli stati membri ma anche in quei partenariati che vedevano un'attiva presenza e investimento da parte del settore privato che sono le cosiddette articoli 187 o Joint Technology Initiative e che vi ritrovate in questa slide nella nella parte anche in arancione questo è come ha cambiato il panorama dei partenariati da Horizon 2020 a Horizon Europe siamo nell'attuale configurazione a 49 partenariati previsti nel quadriennio 2021-2024 i partenariati in Horizon Europe saranno di tre tipi e ve li andrò a specificare a breve 16 di questi saranno dei partenariati cofinanziati 12 dei partenariati coprogrammati avremo poi 10 partenariati istituzionalizzati e un partenariato quello sulle pandemie che ancora invia di definizione rispetto alla struttura che andrà ad utilizzare quindi vediamo come c'è stata una forte razionalizzazione di questi razionalizzazione che ha portato a una condensazione di quelli che erano gli strumenti previsti nel passato in queste tre grandi famiglie co-funded co-programmed e istituzionalizzati chi di voi era abituato a partecipare a quelli che erano i finanziamenti che derivano dai programmi Eranet sia co-found che altre tipologie di Eranet oggi in Horizon Europe dovranno ricercare queste possibilità nella definizione di quelle che saranno le opportunità all'interno dei partenariati co-finanziati i cosiddetti co-funded coloro che invece erano abituati a parlare di Joint Technology Initiative di articolo 185 come prima ad esempio o piuttosto delle opportunità delle comunità dell'innovazione e della conoscenza previste nell'Istituto Europeo di Tecnologia e Innovazione alias l'IT dovranno guardare a quelle che sono le opportunità offerte nei partenariati istituzionalizzati invece i co-programmati seguono un andamento lineare tra Horizon 2020 e Horizon Europe e le cosiddetti partenariati contrattuali presenti nella vecchia programmazione diventano a tutti gli effetti le cosiddette co-programmed partnership in Horizon Europe che sono e ve lo anticipo quelle più semplici da identificare e da definire e alle quali partecipare ma ci arriveremo fra poco prima di entrare nel merito voglio farvi un ultimo passaggio perché mi ricollega anche a quello che è stato il mio ultimo intervento durante questa settimana Horizon Europe dedicato allo strategic plan durante l'intervento sullo strategic plan vi avevo detto che questo strumento diventa uno strumento fondamentale per legare le politiche dell'Unione a quelle che sono le opportunità di finanziamento e quindi in azioni concrete e in un documento di questo tipo con una concentrazione di attenzione da qui al 2024 non poteva mancare l'identificazione di quelli che sono i partenariati in particolar modo i partenariati co-programmati e quelli co-finanziati un altro importante documento dove andare a identificare i partenariati è quello presente nella proposta della Commissione per le iniziative articolo 185-187 che è una comunicazione di febbraio del 21 che a poco vi farò vedere e che è l'elemento che va a definire anche i partenariati istituzionalizzati altri elementi molto importanti che fanno capo a tutto quello che è stato il processo di pianificazione strategica è stato anche il coinvolgimento degli stati membri in questo processo e nell'identificazione di quelle che sono le aree di attività strategiche più rilevanti da includere nei partenariati ed è per questo che c'è un documento che vi ho legato anche qui nella slide una cosa che ci tengo a sottolineare specialmente per i partenariati co-funded e per quelli co-programmed elencati all'interno dello strategic plan è che questi rimangono sicuramente a valere per la durata del piano strategico quindi sono partenariati che noi avremo dal 2021 al 2024 vedremo poi nello strategic plan 2025 2028 se ci saranno eventualmente poi degli ulteriori elementi che favoriranno la nascita di altri partenariati piuttosto che la riconferma delle stesse ma questo non ci ha dato ora saperlo dobbiamo aspettare ancora qualche anno per ora concentriamoci sui 49 partenariati definiti all'interno dello strategic plan e nella comunicazione del febbraio del 2021 della commissione europea entriamo subito nel merito di questo slide lo slide della commissione europea che vi ho voluto riportare qui che ci dice che cosa sono e qual è l'approccio nuovo ai partenariati andando a identificare in maniera molto chiara e puntuale come i partenariati seguono il supporto a quelli che sono gli obiettivi e le politiche dell'Unione Europea attraverso degli strumenti che sono guidati da degli obiettivi molto ambiziosi obiettivi che vengono definiti attraverso un orientamento strategico e quindi il piano strategico con un approccio sistemico con un'architettura semplice e che devono avere dei criteri comuni all'interno del loro ciclo di vita quindi elementi comuni a tutti i partenariati noi abbiamo tre tipologie di partenariato previste nella strutturazione di Horizon Europe come vi dicevo i coprogrammati che sono basati su protocolli di intesa o memorandum of understanding tra la commissione europea e i partner della commissione siano questi soggetti e associazioni che possono raggruppare soggetti pubblici o privati poi abbiamo i partenariati cofinanziati o cofunded che sono basati su un programma congiunto concordato dai partner dove l'impegno dei partner è quello di andare a contribuire in kind o in cash al finanziamento delle azioni previste nell'accordo stesso infine abbiamo l'ultima tipologia gli istituzionalizzati che sono basati su una dimensione di lungo periodo e su una visione di lungo periodo che prevede un elevato coinvolgimento della controparte politica e scusatemi della controparte privata nei cosiddetti partenariati articolo 187 e anche per il 185 prevedendo anche negli stessi la possibilità di partecipazione non soltanto di soggetti pubblici ma anche di soggetti privati al cofinanziamento dell'azione insieme all'Unione Europea dove sono però i partenariati della struttura di Horizon Europe nel secondo pilastro questo sicuramente è quello che emerge da una lettura di immediatezza di quelli che sono i partenariati europei perché dei 49 partenariati oltre 30 fanno capo ai cluster del secondo pilastro e possono aiutarci i cluster stessi ad una loro identificazione ma non sono soltanto presenti nel secondo pilastro perché alcune tipologie di partenariati come quelli dedicati all'istituto europeo della ricerca dell'innovazione con le KIC e quello dedicato a Innovative as a MIS sono presenti all'interno del terzo pilastro poi abbiamo il partenariato su quello che è lo spazio per la scienza aperta quindi EOSC che è presente trasversalmente al secondo e al terzo pilastro a cosa servono però i partenariati e quindi ribadiamo ancora perché diventano importanti specialmente per gli utenti perché sono uno strumento che viene utilizzato per delegare una parte di implementazione del programma quadro quindi è uno strumento che viene utilizzato per delegare una parte di quelli che sono i finanziamenti diventa fondamentale conoscere i partenariati per gli utenti finali perché vanno ad offrire ulteriore opportunità rispetto a quelle previste all'interno dei piani di lavoro dei cluster che abbiamo analizzato nei giorni scorsi e che continueremo ad analizzare i partenariati diventano chiave perché vanno a contribuire al raggiungimento delle priorità politiche dell'Unione Europea attraverso il collegamento con lo strategic plan vanno ad allineare le priorità settoriali a livello europeo tramite anche l'integrazione di quelli che sono gli impegni e gli sforzi anche a livello nazionale e regionale hanno l'obiettivo di andare a superare la frammentazione del panorama di ricerca e di innovazione evitando la duplicazione degli sforzi anche qui tra programmi a livello europeo ma anche tra strumenti di finanziamento a livello europeo nazionale e regionale e poi sono degli strumenti che hanno l'obiettivo di raggiungere una massa critica di investimenti molto più forte grazie ad Horizon Europe e di creare dei network europei autosufficienti nel lungo periodo che possano in qualche modo quindi evitare un finanziamento poi fra dieci anni dell'Unione l'obiettivo e come nascono è quello logicamente di rafforzare lo spazio europeo della ricerca attraverso quindi dei partenariati che portano insieme diversi attori lungo tutto quelli che sono i settori della catena del valore e che hanno l'obiettivo quindi di creare massa critica vi ho voluto mettere queste immagini da un fact sheet da un infografico della commissione perché vi fa capire il legame che c'è tra diversi attori che vengono coinvolti nei partenariati a livello pubblico e privato per accrescere la massa critica e per rendere gli investimenti ancora più di valore e di impatto ma anche quello che è il collegamento con le politiche strategiche della commissione Van der Leijer e in particolare su quelle che sono le politiche dell'Unione che abbiamo cercato di farvi vedere in questi interventi come il Green Deal Digital Age piuttosto che la componente più economica delle politiche dell'Unione Europea e quindi un richiamo diretto che c'è tra partnership e quelli che sono poi il raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione che non dovete comunque mai dimenticare quello che è il collante e la questione dell'intervento logico che è diventata una chiave di lettura fondamentale per Horizon Euro quindi questi partenariati nel loro generare investimenti a massa critica vanno a contribuire ulteriormente a quelli che sono gli investimenti e le misure di sostegno creando quindi effetti di lungo periodo non soltanto sul comparto ricerca e innovazione ma su tutto quello che ruota intorno al mondo dell'occupazione della società dell'ambiente della componente ecologica e di sviluppo economico un'altra caratteristica interessante dei partenariati europei è che sono degli strumenti che non sono aperti soltanto agli stati membri associati ma sono degli strumenti che nel corso degli ultimi vent'anni hanno anche portato a una collaborazione molto estesa con altri paesi all'esterno dell'Unione Europea mi viene un esempio il partenariato con l'Africa per quello che riguarda le malattie infettive che è diventato oggi Global Health Approach se non erro poi mi correggeranno eventualmente i colleghi del settore salute ma anche il partenariato sulla biodiversità sulla componente di Water for All che sono comunque delle iniziative che hanno visto grazie all'utilizzo di queste partnership il rafforzamento di quella che è anche la cooperazione europea e il priority setting tra Unione Europea e Paesi Terzi infine un altro elemento chiave è quello della coesione e della sinergia tra quello che viene erogato con i partenariati e quelli che sono i fondi della politica di coesione quindi dei fondi strutturali di altri programmi europei come Europa Digitale piuttosto che il collegamento a quelli che sono altri meccanismi di finanziamento dell'Unione Europea questo con un obiettivo chiaro di andare a valorizzare gli impatti e di andare a creare dei meccanismi virtuosi di valorizzazione dei risultati lungo tutta la catena del valore quindi l'importanza delle misure di sinergia non solo a livello politico e di allineamento delle agende strategiche non solo per avere delle roadmap di ricerche di innovazione aggregate e complementari ma anche per andare a favorire tutte quelle misure di creazione di valore in tutte le fasi della catena del valore attraverso strumenti diversi di cui le partnership sono uno di questi strumenti quali elementi fondamentali? Alcuni li abbiamo già trattati altri li vado ad affrontare ulteriormente l'orientamento strategico ma l'abbiamo capito ci sono delle politiche dell'Unione Europea ai quali fanno riferimento ma ci sono anche delle strategie correlate come quella sull'industria un insieme di criteri comuni lungo tutto il ciclo di vita dei partenariati per garantirne la trasparenza l'accessibilità la selezione il monitoraggio e la validazione e valutazione degli stessi poi ci sono delle condizioni chiave per l'avvio dei partenariati stessi l'esistenza di un'agenda di una roadmap di ricerca e di innovazione e l'impegno ex-ante quindi il commitment ex-ante da parte dei partner siano essi pubblici o privati di lungo termine quindi per avere una chiara mobilitazione di quelle che sono le risorse e gli investimenti già nella fase iniziale di avvio delle partnership stesse ma come verranno attuati questi partenariati? attraverso dei piani di lavoro dei programmi di lavoro ovvero quelle che sono le priorità di ricerca definite all'interno delle agende strategiche vengono declinate con inviti con call for proposal in opportunità concrete per ottenere finanziamenti e per proporre soluzioni a quelle che sono le problematiche evidenziate dai partenariati stessi quindi io come utente che cosa andrò poi a trovare domani quando cercherò opportunità sui partenariati? degli ulteriori piani di lavoro a seconda del tipo di partenariato che mi offreranno delle opportunità di finanziamento con delle regole simili a quelle previste in Horizon Europe quindi dobbiamo ora capire come cambiano questi piani di lavoro e queste regole a seconda della tipologia di partnership e poi iniziare a seconda di quella che era tabella di marcia di avvio dei partenariati a indagare ulteriori possibilità di finanziamento l'approccio importante che caratterizza i partenariati ma è qualcosa con mai abbiamo capito essere una parte centrale di comprensione di Horizon Europe è l'approccio sistemico quindi attività che vanno oltre dei singoli progetti di ricerca e di innovazione dove si cerca di avere sinergia legare attività disseminare valorizzare facilitare attività anche di deployment iniziamo dalla prima tipologia di partenariati che sono quelli più semplici e sono i partenariati coprogrammati sono simili ai partenariati contrattuali previsti in Horizon 2020 e da un punto di vista di utente dove me li trovo? me li trovo all'interno dei piani di lavoro dei singoli cluster presenti nel secondo pilastro in particolar modo mi troverò i partenariati coprogrammati all'interno del cluster 4 Digital Industry Space e del cluster 5 Climate Energy e Mobility all'interno di questo WP e poi vi farò vedere come abbiamo dei topic che vengono generati grazie a quelle che sono le priorità definite nelle agende strategiche di questi partenariati coprogrammati agende strategiche che vengono definite insieme a quelli che sono i partner del partenariato stesso molto spesso un'associazione che accomuna all'interno il settore industriale ma anche università centri di ricerca che hanno l'obiettivo di andare a evidenziare quelle che sono le proprie attività i propri investimenti per valorizzare quelle priorità di ricerca e di innovazione espresse nei partenariati coprogrammati vi faccio due esempi di coprogrammati batterie e made in Europe il partenariato coprogrammato sulle batterie lo ricordavamo già in Horizon 2020 con un nome molto simile avevamo iniziato a parlare di Green Vehicles di Green Cars poi Green Vehicles e quindi c'è stato un avanzamento e quel partenariato è oggi presente in Horizon Europe come batteries poi ne abbiamo un altro che è quello per esempio relativo al made in Europe dove si parla di manufacturing nel vecchio Horizon 2020 il made in Europe di oggi era il factory of the future di ieri quindi c'è stata anche qui un'evoluzione ma sempre manufacturing e sempre azioni di ricerca e innovazione su questo settore verranno finanziate anche in Horizon Europe questo dove all'interno del piano di lavoro di quello che è il cluster 4 dedicato alla componente industriale partenariati cofinanziati i partenariati cofinanziati sono simili a quelli che erano i Joint Programming e le azioni Eranet in Horizon 2020 quello che è tipico dei partenariati cofinanziati è che c'è un cofinanziamento nella maggior parte dei casi pubblico da parte dei ministeri dei singoli stati membri o eventualmente anche di agenzie di finanziamento regionali quello che accade all'interno di questi partenariati cofinanziati è che una parte di budget viene impiegato dalla Commissione Europea una parte di budget viene impiegato dagli stati membri che cosa succede a livello pratico succede ad esempio che voi vi troverete nel piano di lavoro ad esempio del cluster 6 dedicato al food dei topic dove c'è scritto partnership co-funded quindi tipologia di azione partnership co-funded io come utente una volta che leggo questo topic che cosa posso fare? nulla a meno che non sia un'agenzia di finanziamento perché a quel topic vanno a partecipare coloro che possono mettere budget all'interno di quell'azione insieme alla Commissione Europea quindi una volta che gli enti che mettono il finanziamento oltre alla Commissione Europea partecipano a quel bando genereranno un programma congiunto a questo programma congiunto seguiranno in un lasso di tempo più avanti nel tempo ulteriori opportunità di finanziamento attraverso un programma di lavoro che viene aperto da coloro che mettono a finanziamento quei temi e che possono quindi direttamente partecipare alla goal con che regole? con le regole che in questo caso sono le regole di quella che è l'ente che va a finanziare questi partenariati quindi ci saranno sicuramente delle regole che dipendono ad esempio dal Ministero dell'Università di Ricerca che nella maggior parte dei casi va a finanziare questi partenariati e che possono avere delle eccezionalità rispetto alle regole classiche della Commissione Europea se io sono quindi un utente quello che posso scoprire oggi all'interno del WP del cluster 6 20-21 è che ci sarà ad esempio un partenariato su quella che è la Blue Economy ma non potrò ancora partecipare dovrò aspettare che quella call che quell'invita a presentare proposte all'interno delle WP 21 venga eseguito da un consorzio venga investito del budget da parte degli Stati Membri e successivamente all'implementazione di questi potrà partecipare nelle misure che reverranno offerte da questi enti finanziatori l'ultima tipologia di partenariato che è quella più complessa è quella dei partenariati istituzionalizzati che seguono due basi legali l'articolo 185 e l'articolo 187 in questo caso c'è una decisione del Parlamento o del Consiglio alla base di questo strumento con un impegno di lungo periodo che vada a segnare delle risorse economiche rilevanti a queste iniziative risorse economiche dell'Unione che vengono affiancate da un impegno di budget in kind in cash anche di quella che è la controparte pubblico privata di questo partenariato istituzionalizzato ci sono casi in cui questi partenariati istituzionalizzati prevedono una partecipazione solo industriale quindi la controparte è un consorzio di partner industriali questo per esempio è il caso della Circular Bio Based Europe quella dedicata al concetto di risorse Bio Based tipologia diversa per esempio quelle che riguardano alcuni partenariati istituzionalizzati dove c'è invece una partecipazione non soltanto di soggetti privati quindi di un consorzio di industria ma anche un investimento da parte degli stati membri quindi con un budget mezzo ad hoc dai ministeri o da regioni afferenti cosa interessa a me come utente? Interessa che una volta che inizieranno la frase implementativa questi partenariati istituzionalizzati andranno a bandire attraverso dei piani di lavoro delle call for proposal delle opportunità di ricerca e di innovazione che sono al di fuori di quelli che sono i piani di lavoro dei cluster del secondo pilastro quindi per cercare l'opportunità di finanziamento dei partenariati istituzionalizzati dobbiamo uscire dai VP dei cluster del secondo pilastro ed entrare in una modalità aggiuntiva di offerta di finanziamenti che sarà sempre presente all'interno del funding portal ma con delle modalità anche di implementazione di valutazione e di gestione dei progetti che sono al di fuori di quelli che sono le agenzie della commissione e che andranno proprio in una gestione attraverso una cosiddetta join undertaking cioè un ente che viene creato ad hoc per la gestione di questi progetti e per la valutazione degli stessi è molto interessante quello che viene generato dai partenariati istituzionalizzati perché sono delle misure di finanziamento con un budget sicuramente strategico e che vedono portare gli interessi dell'industria ma anche di alcuni stati membri all'interno e delle aree di attività previsi da questi partenariati per cercare di riassumere nei coprogrammati c'è una cosiddetta divisione del lavoro come vi ho detto i coprogrammati li troviamo nei VP dei cluster del secondo pilastro la forma più semplice di partnership perché quello che devo sapere come utente è che derivano da un'agenda strategica di ricerca e di innovazione a monte che mi aiuta a meglio comprendere gli argomenti che sono riportati in quel topic ma li trovo e le regole che vengono applicate sono quelle del piano di lavoro di afferenza del cluster poi ci sono i cofinanziati dove c'è un programma integrato che viene ovvero un piano di lavoro che viene congiuntamente definito da commissione e dagli enti che lo finanziano in particolar modo pubblici con un'attuazione distribuita che vuol dire che cambia a seconda se parliamo di una partnership sulla blue economy su water su climate a seconda del tipo di partenariato cofinanziato e di quelli che sono gli enti che ne sono alla base e poi abbiamo infine la forma infine degli istituzionalizzati che come vi dicevo sono quelli più complessi nelle misure di implementazione e di preparazione e che hanno un programma integrato con un'implementazione centralizzata implementazione centralizzata che vuol dire proprio che ciascun partenariato istituzionalizzato avrà una propria organo un proprio body di implementazione quella che veniva chiamata join undertaking nel vecchio programma Horizon 2020 che li va a erogare a bandire a valutare e ad implementare poi le proposte che verranno da voi presentare qui abbiamo un overview dei 49 delle 49 partnership in Horizon Europe è una divisione per colonne ogni colonna rappresenta un cluster perché il budget dedicato a queste aree tematiche viene prelevato da quello che era il budget a disposizione di un determinato cluster e perché logicamente le attività le aree di ricerca e di innovazione previste in questi partenariati fanno capo direttamente ad una delle tematiche dei politematici di Horizon Europe quindi possiamo vedere l'elenco di quelli dedicati a salute al digital al climate e al food sono quattro i cluster di Horizon Europe che hanno una diretta connessione con i partenariati come potete vedere nel cluster delle discipline social ed umanistiche di inclusive society né quello dedicato alla sicurezza a dei connessi partenariati i partenariati che vedete in arancione sono i cosiddetti istituzionalizzati quindi quelli che prevedono una partecipazione in cash dell'industria a livello di investimento strategico quelli in blu scusatemi in azzurro sono i cofinanziati quindi una sorta di vecchio era net quelli invece in blu scuro sono i partenariati coprogrammati quelli che come vi dicevo vengono direttamente integrati all'interno dei piani di lavoro dei cluster del secondo pilastro in verde acido troviamo invece gli istituzionalizzati connessi a quelle che sono le chicche dell'istituto europeo di tecnologia e innovazione come vi dicevo il partenariato sulle pandemie che è quello dell'ultimo definito non ha ancora una forma declinata da parte della commissione e verrà sciolta a breve la riserva per ora la commissione è in dubbio con gli stati membri se far sì che questo sia un co-funded o un co-programme quindi vi ripeto una cosa che vi ho detto all'inizio ma che credo sia rilevante e interessante di questi partenariati i co-programme dei co-finanziati sono a valere nel 2021-2024 di questi partenariati alcuni partiranno subito nei WP21-2022 scusatemi e sono quelli che vedete qui identificati nella slide del ministero quelli in vecina bio nel secondo BN23-2024 saranno quelli che mancano sono quelli che mancano all'interno di questo slide questo in particolar modo per i partenariati co-finanziati dove c'è un diretto contributo da parte degli stati membri quando parlo di stato membro per l'Italia parlo principalmente del ministero dell'università della ricerca ma possiamo parlare anche di ministero della salute e di ministero delle politiche agricole perché sono altri due ministeri che negli anni hanno investito molto in questa forma di finanziamento vado avanti vado veloce perché i tempi sono brevi una timeline per quello che riguarda i diversi partenariati i co-programmati ce li ho già presenti oggi all'interno dei piani di lavoro del secondo filastro c'è stata la firma del menomorando nuovo avanti standing con un investimento intorno ai 22 milioni di euro se non mi sbaglio del 14 di giugno e quindi sono già stati lanciati con i WP 21-22 per i co-finanziati in questo momento sono aperte le call per i consorsi nazionali presenti nei piani di lavoro 21-22 dove voi come utenti finali non potete partecipare ma il lancio a livello nazionale delle call avverrà nell'ultimo quadrimestre massimo nel primo del 2022 stessa cosa per gli istituzionalizzati dobbiamo aspettare dopo la proposta di febbraio dobbiamo aspettare il lancio delle call che è previsto per la fine di quest'anno l'inizio del prossimo qui troviamo la comunicazione sui co-programmati il memorandum amanda standing e vi faccio vedere quelli che sono i partenariati co-programmati presenti nei WP dei cluster 5 e 6 far per una maggiore analisi c'è sempre ci sono sempre le slide a disposizione qui vi ho fatto vedere come sono presenti i co-programmati all'interno del cluster 4 ho preso proprio la prima destination e vi ho messo in evidenza diversi topic che sono stati definiti grazie a quelle che sono le agende strategiche e ricerche di innovazione del cluster 4 infine vi ho riportato qui quella che è la comunicazione di febbraio dei partenariati istituzionalizzati dove vengono definiti gli elementi chiave in tre parti degli istituzionalizzati tra cui quello che è l'obiettivo di andare a armonizzare quella che è la base legale dei partenariati istituzionalizzati per evitare regole troppo diverse tra tipologie di partnership istituzionalizzate e quindi cercare di mantenere degli aspetti specifici comuni a tutti i partenariati istituzionalizzati che saranno presenti in Oreson Europe questo per garantire anche una facilità di accesso ai proponenti come io divento parte attiva quindi di queste partnership o aderisco come partner quindi come controparte della commissione se sono un ministero se sono un ente un'industria che vuole investire posso candidarmi all'interno di quelli che saranno i piani di lavoro che verranno erogati o che sono stati già erogati all'interno dei tre tipi di partnership una volta che verranno lanciati e poi posso partecipare come attraverso la membership all'associazione alla base dei coprogrammati o attraverso l'adesione a quelli che sono i consorsi privati o pubblico privati presenti nei partenariati istituzionalizzati la prima forma è di finanziatore la seconda forma è di soggetto che partecipa la terza è di soggetto che va a contribuire alla definizione delle priorità di ricerca quindi qua trovate in qualche modo un sunto di quello che vi ho detto adesso quindi come partecipare sia come membro del partenariato ovvero della controparte dell'Unione Europea o come proprio partecipazione all'ecollo e quindi come utente finale in questo ecolo possono partecipare le diverse tipologie di enti previsti in Horizon Europe con eventuali specificazioni che verranno declinate bando per bando vado a chiudere con una novità prevista in Horizon Europe che è un'attività di monitoraggio e di processo di coordinamento strategico di tutti i partenariati che fa capo a un gruppo di esperti gruppo di esperti cui fino alla nomina come presidente del CNR era chair la professoressa carrozza e che adesso lo è ancora attualmente lo è ancora presidente di questo expert group quindi sicuramente anche per l'Italia è una nomina rilevante dato anche il ruolo che l'Italia ha avuto nei partenariati sia a livello di investimento pubblico ma anche di partecipazione molto forte come investitore privato nelle diverse tipologie di partenariato da ormai 20 anni ad oggi non entro nel dettaglio perché il tempo sta scadendo ma qui vi riporto altri elementi aggiuntivi di riflessione sui partenariati la coerenza e il coordinamento dei partenariati stessi la sinergia con i fondi strutturali ma anche alcune attività di cooperazione internazionale che diventano molto forti in alcuni partenariati come vi dicevo quello sulle malattie infettive piuttosto che sulla biodiversità piuttosto che sulla gestione delle acque interne nella pubblicazione che vi ho riportato qui ci sono dei materiali interessanti perché si fa vedere i livelli di intesa e di potenziale connessione tra i diversi partenariati e i diversi programmi che afferiscono all'Unione Europea per i maggiori dettagli sui partenariati non posso che non consigliarvi la nostra guida Horizon Europe dove avete delle specifiche anche tematiche di che cosa trattano i diversi partenariati per area per cluster e poi altri link utili della commissione o del sito di Apre tra cui anche il sito e la Learn che specialmente per i partenariati cofinanziati offre una miriade di informazioni di approfondimenti e di aggiornamenti con questo vi ricordo per chiedere supporto ai partenariati di fare riferimenti ai nostri team tematici per cluster quindi a seconda di l'area di afferenza del vostro partenariato potete chiedere ai nostri team di riferimento ai nostri punti di contatto nazionale e agli esperti Apre che sono presenti in sede a questo punto che ho chiuso questa presentazione che vi ha dato un overview generale dei partenariati dello status e di quelle che sono le differenze dagli stessi apre lei diciamo il palco a voi e alle domande abbiamo circa 5 minuti per rispondere a quelle che sono le vostre curiosità per quanto riguarda i partenariati chiedo alla regia di mettermi in evidenza slide perché al momento non lo sto vedendo vi ricordo che il codice per accedere è HE WIC ok ci sono ok scusate mi c'era stato un piccolo misunderstanding nella gestione di slide ora tutte le domande che avete fatto sono presenti direttamente nella finestra d'accesso allora comincio a rispondere vado alla prima domanda quali sono le condizioni per partecipare ad una call cluster 4 o 5 su topic del partenariato co-programmed le stesse condizioni previste in un qualsiasi piano di lavoro dei cluster quindi non ci sono delle condizioni specifiche scusate di elegibilità aggiuntive ma sono le stesse previste all'interno di quello che è il bando di afferenza vi ricordo sempre di leggere in maniera chiara eventuali condizioni di elegibilità aggiuntive ma di base non ci sono cambiamenti rispetto alle regole di accesso generali ai programmi di Horizon Europe quindi non ci sono delle condizioni di accesso diverse allora quali sono i rate di finanziamento nei diversi partenariati e per i diversi soggetti allora questo è qualcosa che dobbiamo andare a vedere tipologia per tipologia e partenariato per partenariato questo vuol dire che non esiste una risposta valida per tutti chiedo la cortesia di avere la domanda alla quale stavo rispondendo vabbè non fa nulla che cosa vuol dire questo vuol dire che ad esempio nei partenariati coprogrammati il riferimento è quella della classica tipologia di azione RIA o DIA quindi le percentuali di finanziamento fanno afferenza a quelle che sono le regole generali del programma quando invece andiamo a vedere eventualmente i partenariati cofinanziati dobbiamo andare a vedere le regole specifiche che vengono stabilite dagli enti finanziatori per quanto riguarda anche i partenariati istituzionalizzati le regole potrebbero cambiare all'interno di quelli che sono i meccanismi di implementazione quindi dobbiamo andare poi a focalizzarci sui WP una volta presentati per avere una chiara evidenza allora ho risposto a questo punto a questa domanda allora è possibile mettere risorse europee FESD o FSE sicuramente c'è una sinergia molto forte con quelli che sono i fondi strutturali e tra le misure i partenariati per quello che riguarda l'eventuale investimento anche di fondi pubblici c'è un'ampia disciplina in merito che è in fase di definizione però ci sono dei cambiamenti molto forti rispetto al passato quindi ci sono delle modalità diverse anche per le regioni di intervenire con dei propri investimenti all'interno dei partenariati specialmente nei cofandi poi se voi siete un'agenzia di finanziamento regionale sarebbe interessante dialogarne in maniera in maniera bilaterale potete contattarci su questo un gruppo di ricerca universitario come può partecipare ad un partenariato cofunded voi lo facevate già negli ERANET perché le università e i centri di ricerca hanno partecipato fortemente negli ERANET in Oreson 2020 e quelle modalità con i regolamenti ministeriali dovrebbero essere riportate anche nei partenariati cofunded in Oreson Europe quindi potete partecipare sempre a livello di consorzio perché stiamo parlando sempre di proposte progettuali che hanno un impatto europeo e quindi che devono essere portate avanti a livello di consorzio quindi di più enti che aderiscono alla stessa call provenendo da paesi diversi poi le misure specifiche saranno riscontrabili all'interno dei piani di lavoro di ciascun partenariato cofinanziato ripeto qui quando si parla di gestione distribuita è perché ciascun partenariato poi potrebbe avere delle proprie regole che dobbiamo andare ad analizzare bando per bando allora questa è la domanda che vedo adesso è una domanda che molto spesso mi viene fatta e qui c'è un problema di gergo anche nostro come esperti tematici quando io parlo di partenariato di European partnership in questo contesto di questo speech sto parlando di programmi sto parlando a livello di programma non a livello di progetto quindi sto parlando a livello di uno strumento che mette insieme risorse che vengono da unione soggetti pubblici o privati per la per la finanziamento di ulteriori opportunità di ricerca e di innovazione quando io parlo di consorzio di partnership a livello invece di progetto sto parlando di un consorzio che si mette insieme con almeno tre enti che provengono dai stati membri associati differenti dico almeno uno dallo stato membro che cosa fanno vanno a presentare una potenziale soluzione a quella che è la problematica identificata dal topic presente nel WP quindi nel caso delle European Partnership siamo a livello di programma nel caso invece di consorzio o partnership siamo a livello di progetto spero di aver capito meglio questa di aver chiarito meglio questo elemento allora si può chiarire meglio la relazione tra fondi strutturali e tipologia di partenariati allora che cosa si intende per sinergia da questo punto di vista il fatto che per creare realmente impatto a livello di Unione Europea le diverse fonti di finanziamento devono essere coerenti e devono avere un certo grado di allineamento quindi per sinergia le possiamo intendere a livello diverso possiamo intendere a livello di allineamento delle agende strategiche possiamo intendere a livello di mettere in rete delle misure di policy a livello quindi di stato nazionale che siano coerenti con quelli europei ma possiamo anche considerare a livello di value chain che vuol dire questo vuol dire che per esempio i partenariati in Horizon Europe finanziano fino a un TRL 7 a un TRL 8 e poi ci sono altri strumenti di finanziamento che vanno a valorizzare per esempio la parte di deployment di quelli che sono i risultati della ricerca quindi è una sinergia che potrebbe essere anche a livello di value chain è questo che possiamo intendere nel concetto di coerenza e sinergia tra le diverse fonti di finanziamento allora una domanda è su Climate 0102 su questa partnership su Water Security for the Planet Water for All no voi come università qui non potete partecipare questa è una call che è riservata agli enti che possono mettere budget all'interno di quel partenariato in questo momento il ministro dell'università della ricerca sta lavorando su questa partnership per andare a diciamo così valorizzare quello che è l'investimento nazionale su queste tematiche una cosa importante che voglio dirvi è che l'Italia con il ministero con il MUR è interessata a diversi partenariati co-funded tutti quelli presenti e investirà un determinato budget nei prossimi anni quindi già ad oggi sappiamo in quelle che sono le previsioni di bilancio del ministero gli investimenti da parte nazionale che saranno previsti in queste co-funded quindi risposta alla domanda sulla call del Caster 6 sul Climate possono partecipare ripeto soltanto gli enti finanziatori voi come università parteciperete una volta che quel partenariato genererà le call per partecipare alle call dei partenariati co-programmati è necessario essere parte delle rispettive associazioni no e assolutamente ci sono state fatte anche delle analisi per cercare di valorizzare il fatto che queste sono delle call aperte a tutti quanti e tali devono rimanere e questo avverrà anche nei partenariati istituzionalizzati quindi è importante l'elemento dell'apertura che è una delle caratteristiche dei partenariati europei quindi il fatto che la partecipazione è aperta a tutti quanti non soltanto a chi è membro dell'associazione o del consorzio privato qui c'è una domanda di Graziano abbastanza complessa e molto tematica su Natural Man Made Hazard sulla quale poi in caso risponderò me la lasciate qui per favore in slide poi rispondo direttamente a Graziano in slide dopo l'intervento non ho visto prima tra i partenariati istituzionalizzati il programma quindi terminerà allora prima un articolo 187 185 i 185 hanno una durata di 7 anni e prima è all'interno di quelli che sono i regolamenti di decisione della passata programmazione aderente ad Horizon 2020 con budget Horizon 2020 è per questo che voi non lo vedete perché prima rientra anche se temporalmente nella durata di Horizon Europe e quindi avrà bandi che finiranno anche durante Horizon Europe però il budget assegnato deriva dalla vecchia programmazione per la parte della Commissione Europea e per quelli che sono gli investimenti nazionali quindi è per questo che non lo vedete nella lista perché non è un nuovo partenariato in una nuova release perché è ancora valido così come quello sulla metrologia perché il budget è a valere sul passato settennio i bandi dei partenariati co-funded verranno dunque aperti secondo modalità diverse da quelle del co-programmed già presenti nei WP assolutamente sì le tre tipologie avranno delle misure diverse di apertura e potenzialmente anche delle eccezionalità sulle regole di partecipazione quindi non c'è diciamo così dei criteri comuni in fase di implementazione ma sono comuni soltanto in fase di definizione degli stessi per cui mi raccomando dovete poi andare a vedere i singoli piani di lavoro questo è un consiglio che vi do in maniera molto forte andate a guardare i piani di lavoro una volta che usciranno allora purtroppo il mio tempo sta terminando voglio rispondere soltanto all'ultima domanda la regia mi dà ancora la possibilità di rispondere all'ultima questa in evidenza l'ho già risposta me le scorrete giusto per vedere se c'è qualcosa di più interessante perché questa è la risposta e vedo l'ultima in quali casi occorre pagare una FIP per essere parte di una partnership e quindi applicare un topic in nessuna assolutamente no non occorre una FIP per partecipare ad un topic di un partenariato europeo occorre eventualmente una FIP per partecipare all'associazione o al consorzio privato che è la controparte privata ma questo non è assolutamente non coerente con la partecipazione al bando guardo l'ultima e rispondo questa l'ho già risposta in realtà all'ultima che vedo partecipare ad una European Partner ci può dire essere associated partner no assolutamente no non vi confondete con quello che è il wording della Commissione Europea un partner associato è un paese come Israele come il Marocco piuttosto che potrebbe essere il Canada è un paese non è assolutamente un partenariato quindi per associated partner noi intendiamo uno stato per European Partitions scusate in questo caso intendiamo uno strumento totalmente totalmente diverso con questo chiudo le domande che non ho risposto le risponderò adesso in replay quindi le potrete vedere comunque su slide o in circa una mezz'oretta a questo punto io vi ringrazio vi ringrazio per l'attenzione vi lascio adesso al mio collega Mattia Ceracchi che vi parlerà dell'altra importante novità di Horizon Europe il concetto di missioni che ha delle caratteristiche anche comuni che ho partito ai raiati europei e che è sicuramente un elemento molto stimolante e quasi diciamo così divisione dell'Unione Europea io vi aspetto domani invece per parlare del cluster 6 dalle 9.30 quindi arrivederci a domani e ancora buon pomeriggio